Qualche anno fa fu fatta una ricerca in Inghilterra sul fenomeno degli hooligans cioè queste persone violente che cercano la violenza e scoprirono che alcuni di questi hooligans erano dei simpatici tranquilli professionisti avvocati medici che il sabato e la domenica prendevano un aereo anche italiani c'erano c'è un rapporto ufficiale andavano in Inghilterra sfogavano tutta la violenza sapendo che correvano il rischio di finire in carcere e di finirci per tanti anni va bene quindi io non prenderei questi come sintomo del malessere nel rapporto tra paese reale paese legale io penso che non credo però scusi se l'interrompo isolati non penso non penso che però in Inghilterra a parte che l'hanno risolto prima degli hooligans e noi non ancora ma non credo che fosse venuto in mente a nessuna istituzione inglese preposta all'ordine pubblico di mettersi a trattare con Jimmy Acarogna equivalente non so come si dica in inglese guardi gli inglesi trattano dovunque e negoziano non platealmente non platealmente semmai nascostamente sono capacissimi già fa la differenza e il fatto è che i sintomi del malessere sono altri e quello che secondo me è più pericoloso è la sfiducia nello stato questo questo è quello più pericoloso perché più diffuso non è puntiforme come la violenza negli stadi insomma